A distanza di 50 anni vuole ritrovare la sua anima gemella. Lui si chiama Attilio, è di Lecco e ha 71 anni. Si è affidato alla nostra redazione inviandoci una mail perché è alla disperata ricerca della signora Mirella o Mariella di Fumone, conosciuta a Roma nel 1969. Attilio in quell'anno era militare in marina di staccamento La Storta, mentre Mirella o Mariella all'epoca aveva tra i 15 e i 17 anni e lavorava a Monteverde nella capitale. I due si sono frequentati per un periodo, poi si sono allontanati ed ognuno ha preso strade diverse, storie e destini diversi. Attilio ci ha anche spedito una foto di come era all'epoca nella speranza che la donna di Fumone possa riconoscerlo e contattare la redazione di Lazio TV Frosinone. Spero, ci dice, riusciate a trovarla perché mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Mirella o Mariella, se ci sei, c'è apposta per te, senza volerci sostituire a nessuno, ovviamente.